Il profumo è inconfondibile, il sapore strepitosamente unico, solo in questi giorni, dal 9 al 12 ottobre. Menù degustazione a soli 35 euro, al ristorante L'Angolo, presso le rotonde di Garlasco. Due antipasti, due primi, un secondo di carne, dolce e quattro calici di vini diversi per accompagnare il menù degustazione, a base di tartufo nero e funghi. Chiama il 347 82 81 419 e prenota un menù degustazione gustoso e pregiato, solo 35 euro a persona, tutto compreso, solo dal 9 al 12 ottobre. Prova il sapore del tartufo nero e dei funghi, accompagnato da quattro vini selezionati per il menù, al ristorante L'Angolo, presso le rotonde di Garlasco. Per info, lerotonde.com o 347 82 81 419.